A 43 anni compiuti, William Stoner apprese ciò che altri ben più giovani di lui avevano imparato prima, che la persona che amiamo da subito non è quella che amiamo per davvero e che l'amore non è una fine ma un processo attraverso il quale una persona tenta di conoscerne un'altra. Erano entrambi molto timidi e si conobbero lentamente con cautela, si avvicinavano e poi si allontanavano, si toccavano e si ritraevano immediatamente per paura di imporsi l'uno all'altra più di quanto non fosse desiderato. Giorno dopo giorno ogni riserva tra di loro si sciolse e alla fine, come ogni persona timida, si aprirono l'un l'altra senza più difese fino a sentirsi perfettamente a loro agio.